Il 15 gennaio 2024 sono iniziate le primarie negli Stati Uniti verso le elezioni presidenziali di novembre con l'apertura di cosiddetti caucus in Iowa che ha siglato una vittoria spiacciante dell'ex presidente Donald Trump e che ora punta ad un secondo successo, il New Hampshire. Galvanizzato dagli ultimi successi, Tycoon ha subito lanciato le sue provocazioni proprio a Manchester. New Inspire, conosco Putin, conosco Zelensky, risolverò la questione ancora prima di entrare in carica, poi Trump ha lodato Viktor Orban definendo un grande leader europeo e infine assicurato che eviterà la terza guerra mondiale.